Se per esempio la persona ancora non conosce bene la sua chiave d'accesso e vuole magari cercare di conoscerla e a fianco non ha un operatore, può benissimo anche operare una visualizzazione. In che senso? Può benissimo immaginare di avere davanti a sé per esempio un grande cerchio, pensarlo a una decina di metri da sé e incominciare poi chiudendo gli occhi proprio per facilitare sempre l'attenzione su di sé, anche di immaginare dicevo di portarlo, di vederlo sempre più avvicinarsi a sé, va bene? Quindi mentre diciamo aumenta quindi la vicinanza ecco dovrebbero esserci poi delle reazioni istintive da parte del suo inconscio.